Un anno fa si consumava una delle pagine più tristi per l'ospedale San Massimo di Penne. Tante persone si riunirono nel piazzale antistante per una veglia di preghiera affinché il nostro comio vestino potesse rimanere in vita, sia come punto vitale per i cittadini dell'area, sia come valvola di sfogo per l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Oggi, ad un anno di distanza, qualcosa sembra cambiato. Infatti, proprio ieri, si è svolta la riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL di Pescara, nella quale ha partecipato per la prima volta anche il mio sindaco di Pescara Carlo Masci, che ha assunto anche la carica di presidente. Completano il quadro del Comitato i comuni di Penne, Popoli, Tocco da Casarria e San Valentino. A tener banco all'interno del Comitato l'unico punto all'ordine del giorno, e cioè un parere sui risultati conseguiti nei 18 mesi di attività del direttore generale della ASL Armando Mancini. Ed ecco che torna alla luce la grave situazione che vive quotidianamente l'ospedale San Massimo di Penne dopo il declassamento, tant'è che l'amministrazione comunale di Penne ha espresso il parere negativo sull'operato dell'attuale manager, ricordando le numerose criticità che tormentano il presidio ospedaliero vestino. Tra le quali medici contrattualizzati per Penne ma in servizio permanente a Pescara, mancata riqualificazione strutturale dell'azienda sanitaria, fondi ex articolo 12 della finanziaria 1998, impiego costante del personale interinale invece di assunzioni con procedure contrattuali, innumerevoli strumenti diagnostici acquistati e tenuti imballati, disinteresse e disorganizzazione da parte della governance della ASL, pur sapendo che all'interno dell'ospedale ci sono ancora molte eccellenze e vi lavorano medici e infermieri ben vista da tutta la regione Abruzzo e non solo. In tanti chiedono allora l'inversione di rotta, soprattutto dopo il cambio alla guida del governo regionale.